signori stregata dalla luna fin del 1988 con Nicolas Cage e Cher molto bello veramente un gran film ma io non so perché questi film qua non li passano mai in tv cioè io mi chiedo a parte Nicolas Cage che non è come gli ultimi film che è impazzito ma ha fatto un film filmone boh non lo so consigliatissimo basta così un saluto a tutti se volete iscrivetevi al canale se volete lasciate un like ciao ciao